Non sembra ancora esaurita la cherella attorno alle elezioni al Consorzio di Bonifica Vallo di Diano, avvenute dicembre scorso e conclusesi con la netta vittoria del gruppo capeggiato dal presidente Beniamino Curcio. Il Tar di Salerno, a cui si erano rivolti per la sospensiva alcuni dei non eletti, che avevano sin da subito esternato perplessità sulle operazioni di voto, ha fissato ora la trattazione dell'udienza di merito al prossimo 6 dicembre e nel frattempo ha ordinato ai ricorrenti di integrare il contraddittorio nei confronti di tutti gli eletti e al Consorzio di fornire una serie di documenti, tra cui i verbali delle operazioni elettorali seggio per seggio, le deleghe di voto autenticate e le liste elettorali riportanti i nominativi dei candidati compresi nella lista dei aventi diritto al voto. Il punto contestato dai ricorrenti in particolare è relativo al fatto che queste autenticazioni delle deleghe di voto siano state eseguite anche da personale non inquadrato come dirigente, diversamente da quanto prescriverebbe la normativa. Il Tar deciderà a dicembre in merito alla vicenda, che da parte della Regione Campania e dello stesso Consorzio è chiusa da tempo. Dopo infatti le prime polemiche, già a gennaio una delibera della Giunta regionale aveva ritenuto inammissibili due ricorsi presentati contro le operazioni elettorali per la genericità delle contestazioni riportate, una pronuncia che di fatto aveva dato legittimità alla guida di Curcio. Nei giorni scorsi poi il Consorzio ha ratificato le elezioni nell'ambito del Consiglio dei Delegati dell'Ente.